Poi prendo un pennellino sempre d'applicazione e mi pecco un pigmento color... Sarà color corallo, salmone, è il salmone dello stack 2 della forecast di quest'anno di MAC, che io trovo stupenda, soprattutto in queste tonalità, infatti ho preso anche il rai peach ed è stupendo, il fard. Comunque lo prendo, senza esagerare, questi pigmenti sono stupendi perché ne basta pochissimo, penso che ve lo sappiate. E lo bagno con un po' di tonico, fix plus, acqua termale, quello che avete. E lo vado ad applicare al centro. Illumino questa parte ed è un po' più tridimensionalità forse, è un effetto che comunque a me sembra molto più... Un po' secondo me ci sta bene, basta. Poi ovviamente è libera di modificarvi il trucco come vi fare. Ok, adesso passo alla matita. Prendo... no, scusate. Facciamo prima della matita, quando facciamo babbate, mettiamo prima il colore luminone. Lo metto qua, e pochissimo, pochissimo all'interno. Qua. Ok, adesso passo a mettere una matita nera all'interno dell'occhio, poi lo metto anche sopra. Ingrossando il tratto, adesso tiro un po' l'occhio perché almeno lo faccio più veloce. E alla fine ingrosso il tratto e vado un po' in su. Ok, vado un po' anche all'interno e adesso proprio all'interno. Nella rima interna. Sempre un po' di sollettico. E ora prendo, se lo becco perché un pennellino angolato e vado a sfumare bene qua sopra. Per fare la riga proprio uniforme. Tiro in fuori. E sfumo un po' in su facendo così. Proprio lascio proprio l'ultima parte. Voglio la linea netta che però non si vede che piano piano si sfumi col marrone. E faccio quest'operazione col pennello, sempre col pennello angolato però tenendolo di piatto. Adesso metto il mascara. E per metterlo oggi ho voluto sperimentare. Allora, avevo provato quando sono da Mac a prendere questi cosini qui. Perché così ho detto, se trucco un'amica o qualcuno così, se devo truccare uso questi cosi. Il fatto è che, alla fine non li ho mai provati. Perché li avevo persi. Li ho ritrovati e ho detto, oggi provo questo. Ed è, non so di che mascara sia esattamente. Io adesso ho quello di Givenchy e poi ne ho altri colorati. Ma della Mac non ne ho mai preso nessuno. Però ve lo provo a provare a Poulash. Comunque, è tipo a spirale. Si vedrà? Ecco, vabbè. E quindi, per questa volta rinuncio a me alla mia pallina. E provo a usare questo. Cioè, ho già provato. E fa delle ciglia molto molto folte. Foltissime proprio. Ma non esageratamente lunghe. Quindi, se avete delle ciglia abbastanza rade, ma lunghe. Questo applicatore qua, un po' a spirale, è perfetto, direi. Perché le fa proprio folte folte. Guardate. Questo è l'altro occhio. Comunque, penso che, spero che si veda nelle foto. Forse ne faccio una che prende da sotto, così. Biesti i capellazzi. Ho dei capelli orrendi. Lo so, ne sono consapevole. Non so perché diventino così. Perché, come penso vi siate accorti, ho giocato molto con le tinte quest'estate. E, ahimè, non mi sono, questo è stato durante l'anno. E non mi sono ancora ricresciuti. Quindi ho, non li voglio ritingere, perché adesso arriva l'estate. Se vado al mare e io li ritingo anche nel mio colore, poi mi diventano gialli. E non mi va proprio. Comunque lo metto solo sopra il mascara. Non mi va proprio e... Faccio 4.000 discorsi contemporaneamente. Non mi va che mi diventino gialli i capelli. Stavo dicendo color parliericcio, come già sono d'altra parte. Quindi, secondo me, andare di pizzerli sarebbe uno stress per i capelli, uno spreco di soldi e basta. Più che per i soldi è proprio lo stress per i capelli, che a me non va proprio. Visto che già ci sarà il sole e cercherò di fare di tutto, ma alla fine dell'estate torno a settembre che ho i capelli che sono peggio di quello che sono adesso, perché comunque non sono belli, cioè sono rovinati. Va bene. Stavo dicendo, dopo aver scolto tutto dal lab, prendo un color corallo. Questo. E lo metto sulle labbra. Questo è il look finale. Mi pare che non si possa rimpicciolirlo su. E con questi capelli selvaggi. Tremendi, direi, che oggi sono così motti. Questi brassaletti che hanno fatto casino durante tutto il video. E spero che vi piaccia e provatelo. Qui ci sono. Espant personale. E la rifata sia합니다. E la rifata? Io comin giorno dopo. Vai stare qua.